Il racconto di una Roma dagli anni 60 agli 80 attraverso la vita di una donna singolare al centro del film La vera storia di Luisa Bonfanti di Franco Angeli in sala al Cinema Farnese il 6 aprile. Antonella Vallante. Riconobbi da lontano quello che chiamavano Pierpaolo, giocare a pallone con due ragazzini. Quello che chiamavano Pierpaolo era Pasolini, un incontro che cambia per sempre la vita della romana Luisa Bonfanti, interpretata da Livia Bonifazi. Luisa nasce in una baracca lungo l'acquedotto Felice al Mandrione a Roma, si innamora del cinema incontrando casualmente Pasolini che fa i sopralluoghi per Accattone e comincia a fare la comparsa cinecittà. E nel 1968 passo dopo passo Luisa arriva a lavorare anche per film di impegno civile con grandi registi fino a imboccare però negli anni 80 una strada priva di ideali, una vita la sua va segnata dalle coincidenze, sia nella carriera sia nell'amore per un pittore della scuola di piazza del popolo. In realtà questo pittore è una figura storica realmente esistita, sarebbe appunto Franco Angelo, lo zio del regista Franco Angeli, appunto omonimi, fa parte della scuola di pittura di piazza del popolo ed è diciamo così un innovatore all'epoca. Il film La vera storia di Luisa Bonfanti del regista Franco Angeli al cinema farnese a Roma il 6 aprile incrocia in modo sperimentale foto, documentari, videoarti, videoclip, repertorio e finto repertorio. Il fatto del digitale è una materia espressiva fondamentale perché proprio attraverso l'elaborazione sono riuscito a creare un personaggio, a rendere realistico un personaggio che in realtà assolutamente è inventato.